Non oserei mai presentarmi così, ma tuo padre ha scritto il libro che è in assoluto il mio preferito, Padri e Figlie. Io sono Cameron. E io Katie. Quindi tu sei Patatina? Sì. Che cosa scrivi? Sto scrivendo un nuovo libro. L'ho chiamata Patatina praticamente dal primo istante in cui l'ho vista. Perché non lo scriviste di noi? Sono i due. Sì. Mia figlia è un genio! Ho bisogno di un minuto. Quelle convulsioni sono il sintomo di qualcosa di grave, deve curarsi. Non posso, io non ho una figlia da crescere. Proprio per questo deve farlo. Andrai a stare da zia Elisabeth e zia William. Tornerò presto, promesso. Ti amo Katie. Andiamola, prego. Non tutte le persone che ti amano ti lasceranno. Fermati. Non so se riuscirò a farlo. A fare cosa? Essere la tua ragazza. Non ho mai amato nessuna come te, primatore. Starò bene. Me lo giuri? Te lo giuro. Che? Ci.